bimbe buongiorno oggi spiegazione di come si realizza pinuccio cestino il nostro coniglietto seduto sulla base di legno di 20 centimetri con il cestino dove potete mettere le uova cioccolatini o insomma cose cosa volete anche delle piantine finte poi dopo quando la passo è passata allora il nostro pinuccio come vedete dove allora intanto vi faccio vedere i colori che abbiamo del kit allora sono il giallo l'arancio il rosa il rosa e il neutro ecco qua ne prendo uno questo è risposto facciamoci spazio e vediamo dal cartamodello dovete ritagliare tutti i pezzi necessari per la realizzazione del progetto il materiale utilizzato è feltro modellabile 2 millimetri sia per fare il coniglio che per fare il cestino le decorazioni c'è il fiocco del coniglio il fiocco del cestino all'interno delle orecchie sono realizzate con la grecia ovviamente il colore abbinato al colore del cestino dovete ritagliare tutti i pezzi li dovete cucire appunto filza separatamente come vedete dovete ve lo faccio vedere da dietro vedete meglio il corpo cuscito appunto filza e imbottito le zampe lo stesso cuscite appunto filza e imbottite le zampe andranno incollate sul davanti del coniglio del sul corpo davanti nella parte davanti si vede ve lo spiego perché tanto questo l'abbiamo visto anche nel pinuccio fuori porta la stessa cosa la fate per le braccia ritagliate i pezzi li imbottite e incollate il le braccia sulla spalla del coniglio per quanto riguarda il muso per vedere come si realizza il muso potete andare a vedere il tutorial di pasqualone ho già fatto vedere come si fa quindi è inutile che ve lo faccia rivedere il naso in questo caso è realizzato rivestendo con il nero una pallina di polistirolo di 3 centimetri nelle orecchie dovete inserire come abbiamo fatto nel nel pasqualone il metallo modellabile e all'interno delle orecchie qui abbiamo cuscito anche l'imbottitura piatta all'interno per renderle più cicciotte per realizzare l'interno fate il punto filza sul tessuto grecia col colore che trovate nel kit poi lo andrete ad incollare sopra all'orecchio lo stessa cosa il punto filza lo fate per i fiocchi uscite intorno ai fiocchi che poi andrete ad assemblare per quanto riguarda il cestino dovete ritagliare due pezzi di feltro modellabile colorato lo cuscite tutto a punto filza accoppiandolo e andrete semplicemente ad incollare i laterali il laterale insomma un po meglio al bordo del cestino in questo modo si lo potete anche uscire io ve lo incollo però questo lo potete anche uscire quindi lo incollate o lo cucite sia a destra che a sinistra in questo modo vedete e realizzate in questa maniera il il cestino cestino che ovviamente potete poi anche realizzare da solo per metterci le cose dentro i chicchi dentro ovviamente dovete aspettare che si asciughi la stessa cosa la fate anche dalla parte destra quindi sinistro e sinistra e destra quindi questo è il nostro cestino poi ritagliate dal cartamodello no dal cartamodello c'è la misura vero del nasce il manico del cestino trovate la misura sul cartamodello quindi ritagliate due pezzi di cucita appunto filza e li andate ad incollare ai lati del nostro pinuccio il costo del kit è di 20 28 euro comprende ovviamente tutto il materiale necessario per la realizzazione più il cartamodello gli occhietti ed i punti dei baffi sono stati fatti con le spille con la testa nera se volete rendere più chic il vostro pinuccio mettete una bella piuma che trovate caricata sul sito le nostre piume che sono di colore giallo neutro e rosa quindi si abbinano al nostri ai nostri colori che abbiamo utilizzato per questa primavera e rendete il tutto più chic le piume vengono tre euro mi sembra si sono comunque le trovate caricate sul sito il tutto è decorato anche da questi fiocchi realizzati con il filo di feltro e il nostro pinuccio è pronto per essere col cestino il cestino è pronto per essere riempito con tutti i dolcetti vi rinnovo l'invito all'evento di questo fine settimana ci siamo sabato e domenica noi siamo pronte quindi vi aspettiamo abbiamo allestito la vetrina con tutte le novità che faremo vedere per per chi non verrà a trovarci il 20 il 20 nel pomeriggio faremo vedere le le novità vi faremo vedere cosa abbiamo fatto ma ci sono diverse cose e ci vediamo quindi a questo punto ci vediamo sabato per la mattina facciamo un po di dirette un po di dirette un po di foto postiamo per farvi vedere cosa abbiamo fatto per queste due giornate vi saluto e vi do appuntamento a breve ciao ciao